L'ex prefetto scende in campo, Antonio Nunziante ha annunciato oggi che guiderà la lista civica di Emiliano per le regionali. Xilella scatta il piano antilarve, da Bari il ministro Martina detta le linee guida per affrontare l'emergenza. Meno colesterolo, meno tumori, il nostro focus sulla scoperta di un gruppo di ricercatori baresi. L'orchestra dell'università suona per Telebari, il nostro live con il gruppo che si è formato all'interno dell'Ateneo. Buonasera e ben trovati all'ampio spazio con l'informazione di Telebari, insieme commenteremo anche i principali fatti del giorno. Ma prima di partire con le notizie ci colleghiamo con Silvia Di Pintoni, esterna per il nostro live. Pensate, questa sera in anteprima suonerà per Telebari l'orchestra dell'università. Silvia vengo da te. Sì Cristina, hai detto bene, oggi abbiamo questa piccola esclusiva in anteprima, prima del primo concerto in cui debutterà l'orchestra dell'università. Oggi sentiremo suonare gli studenti che ha voluto riunire, il maestro Rino Marrone che è qui al nostro fianco. Ecco già qualcosina la state sentendo, 70 le adessioni alla prima orchestra universitaria. Da che cosa è nata quest'idea? Una ventina di componenti debutteranno venerdì. Certo, dedichiamo questo concerto a un grande maestro che è stato il maestro Nino Rota, in quanto conosciuto in tutto il mondo. Poi è stato direttore per molti anni del nostro conservatorio di Bari, per cui mi è sembrato doveroso partire proprio da Nino Rota. Ecco l'orchestra è nata da pochissimo, meno di un mese, credo. Come mai l'esigenza di avere un'orchestra di musicisti che sono studenti universitari, li conosceremo tra pochissimo? Certo, sono studenti universitari che però hanno studiato, studiano al conservatorio, quindi sono futuri professionisti della musica. E quindi mi sembra giusto in un momento in cui in Italia si chiudono le orchestre di dare possibilità perlomeno di fare un'esperienza, una nuova esperienza in un'orchestra tra giovani. E allora Cristina, tra pochissimo sentiremo un piccolo assaggio di questo concerto. Abbiamo voluto anche noi dare testimonianza di questa bella esperienza che è un astro nascente. Allora ci colleghiamo tra pochissimo. Bene Silvia ci ricollegheremo con te nel corso del telegiornale e in primo piano del nostro notiziario La Politica. Non c'è pace nel centrodestra in vista delle regionali di maggio. In calza la polemica tra Forza Italia e Movimento Schittulli. Io ho fatto l'estremo tentativo per ricompattare il centrodestra e ho dato la disponibilità a ricandidare l'intero gruppo regionale. Ora sono in attesa di risposte così il segretario regionale di Forza Italia in Puglia, Luigi Vitali, che dopo aver annunciato la sua decisione di accettare le imposizioni dei ricostruttori con la disponibilità a ricandidare alla regione tutti gli azzurri uscenti, nessuno escluso, si è visto attaccare dal consigliere regionale Davide Bellomo, braccio destro del candidato del centrodestra Francesco Schittulli. Bellomo con un comunicato a nome del Movimento Schittulli ha accusato Vitali di prendere in giro gli alleati della coalizione e di non rispettare gli accordi che prevedevano l'inserimento nelle liste di Forza Italia dei consiglieri regionali uscenti, amministratori e dirigenti del partito. E ancora la politica. L'ex prefetto di Bari, Antonio Nunziante, guiderà una lista civica a sostegno di Michele Emiliano. Oggi la presentazione ufficiale della sua candidatura lo ha intervistato per noi, Silvia Di Pinto. Lei ha detto 41 anni di carriera oggi al servizio della politica per conciliare il mondo della politica con quello della società civile. Sì, questo è il progetto che mi ha illustrato Michele Emiliano che io condivido in pieno, l'ho spuso in pieno per cui gli ho detto sì a Michele Emiliano per questo progetto. Lo ha detto in conferenza stampa, noi guardiamo i progetti, non guardiamo altri, non guardiamo le persone. Lì ha fatto il prefetto a Forlì, ha detto mi ha impressionato che in Emilia abbia votato soltanto il 37% delle persone. Questo mi ha fatto pensare perché quando va in Emilia Romagna, in una regione dove il diritto è sacrosanto per tutti, va a votare il 37%, ci chiediamo ma è in crisi chi? La politica o la democrazia? Io ritengo che sia in crisi la democrazia. L'opposizione è già all'attacco, ieri il consigliere Davide Bellomo ha detto che si devono dimettere i commissari prefettizi da lei nominati. Allora, innanzitutto lascio ai commissari la valutazione, però penso che sono persone eccezionali. Poi la cosa che vi ho detto è una cosa molto importante, non penso che questi colleghi sono condizionati da un prefetto in pensione. Che cosa possono avere non lo so. No all'Imu Agricola, sì al boicottaggio dei prodotti francesi. A Bari oggi Giorgia Meloni che ribadisce il sostegno a Francesco Schittulli. L'oncologo intanto incontra i consiglieri regionali di Forza Italia. Sentiamo. Sono stati i primi a sostenerlo oggi. L'alleanza si consolida dall'alto di un trattore. Francesco Schittulli a fianco di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per la tappa barese dell'onorevole Giorgia Meloni sull'abolizione dell'Imu Agricola. L'occasione è propizia per lanciare anche in Puglia la campagna nazionale e per ribadire lo schema delle alleanze. Con Schittulli e Giorgia Meloni non a caso anche Adriana Polibortone che negli scorsi giorni era stata indicata come possibile candidata del centrodestra proprio in alternativa all'oncologo barese. Si parte dalle proposte. L'Imu Agricola va abolita e una tassa ridicola è fatta male, spiega la Meloni. I 300 milioni di euro di gettito possono essere ricavati tassando le slot machine. E sempre in tema di agricoltura la Meloni sposa le proposte di Schittulli. Se contro l'emergenza Xilella la Francia chiude le frontiere allora noi boicottiamo i prodotti d'oltrealpe. Sulle regionali invece il messaggio è agli alleati. Problemi interni a Forza Italia, Forza Italia li deve risolvere autonomamente come ciascun partito fa. E noi insieme dobbiamo lavorare perché il centrodestra possa essere competitivo rispetto alla candidatura di Michele Emiliano. E noi pensiamo che Schittulli possa essere più che competitivo se ci si dedica a questa campagna elettorale e a non le questioni interne ai partiti. Intanto ieri Schittulli ha incontrato i consiglieri regionali di Forza Italia vicini al commissario Luigi Vitali. Il risultato è la ricomposizione della frattura. Io venerdì mattina vi annuncio già che ci sarà la conferenza stampa con una presentazione anche del logo di chi ha già aderito. Venerdì mattina ci saranno tutti a partire da Fratelli d'Italia e poi il nuovo centrodestra e poi gli altri partiti. Estirpazione di piante non produttive, fresatura immediata dei terreni, utilizzo di fitofarmaci ed estirpazione delle piante d'ulivo infette. Queste le azioni da attuare entro i prossimi 15 giorni per combattere la xylella fastidiosa. Il ministro Martina oggi a Bari ha chiesto collaborazione tra enti pubblici e privati ma soprattutto razionalità e operatività. Sentiamo uno stralcio della conferenza stampa. Non si può pretendere che si risolva il problema e che non si faccia nulla. Bisogna risolvere il problema con metodo, razionalità, seguendo una logica, iniziando in particolare a individuare ambiti territoriali fondamentali e qui, insisto, il primo vero tema sta in capo a quelle tre fasce e poi lavorando sul resto. Noi siamo di fronte ad un caso molto particolare. Serve, secondo me, metodo, concretezza, rispetto dei tempi e competenza. La vera rivoluzione, il vero cambio di passo, il vero atto utile che noi dobbiamo fare sta in capo a quelle pratiche agronomiche che stanno pienamente nel piano straordinario e nel piano condotto dal commissario Silletti, fatti di aratture, sistemazioni dei terreni, potature, dove è il caso, che se fatte per bene nei prossimi giorni, stiamo parlando di giorni, possono aiutarci molto. Noi abbiamo attivato tutti i soggetti pubblici, lo faremo anche nei prossimi giorni, qui il tema dei comuni, delle province, dei soggetti statuali che a vario titolo hanno competenze su quegli ambienti e su quei territori. E' cruciale, vi posso dire che la mia quota di responsabilità su questo me la prendo tutta. Abbattere in maniera selezionata e mirata in quelle fasce le piante che sono sostanzialmente, fatemi usare questo termine, bruciate dalla malattia, significa salvare tutto il resto. Noi non dobbiamo attivare un normale stato di calamità per questa situazione. Noi dobbiamo costruire una norma che deroga e dà la possibilità di accedere al Fondo Nazionale di Solidarietà per le calamità naturali e si tratterebbe della prima volta che accade per una emergenza fitosanitaria. E passiamo alla cronaca. Ha sfondato il vetro della porta del primo piano chiedendo che le venisse dato un lavoro. Una donna barese questa mattina disperata ha fatto eruzione nella sala massale di Palazzo di Città e preteso un incontro col sindaco di Bari Antonio De Caro. Senza lavoro ha chiesto risposte anche per suo marito ugualmente disoccupato. A calmarla, dopo l'intervento dei vigili urbani, il capo di gabinetto Vito Leccese. Ed è stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto di neonatologia del Policlinico di Bari ma a fronte di una buona notizia rimangono tante, se non troppe, le lacune da colmare nell'ambito della sanità. Vediamo perché. 8 posti letto di terapia intensiva, 15 di subintensiva, 2 in isolamento e 50 culle per neonati non patologici. Inaugurato questa mattina il nuovo reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. Uno spazio triplicato rispetto al precedente, un ambulatorio per prematuri e neonati a rischio ed uno per piccoli interventi di chirurgia. E ancora tecnologie avanzate con incubatrici di ultima generazione per rendere il primo piano del padiglione delle cliniche ostetriche punto di riferimento per l'intera regione. A presentare il nuovo reparto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, il direttore generale Vitangelo Dattoli e l'assessore Donato Pentassuglia. Assieme al professor Nicola Laforgia che con la sua equip potrà non solo accogliere un maggior numero di pazienti ma affrontare una complessità di condizioni cliniche notevolmente superiore. Ma per un reparto che si inaugura rimangono tante, se non troppe, le lacune di una sanità che fa acqua da tutte le parti. Abbiamo raccolto la denuncia di Gino Cipriani, gruppo indipendente Libertà. Le buone notizie fanno piacere a tutti ma della negatività nessuno parla. Oggi parliamo, ad esempio, dell'inaugurazione del nuovo centro di neonatologia. Ma qualcuno mi può dire, se sa, che i pazienti affetti da cancro codice 048 non hanno accesso immediato. Devono prenotare alla pari e alla stregua di uno che ha un semplice raffreddore. E qualcuno deve rispondere di questo. Poi c'è un altro fatto importante. Le donne in stadi di gravidanza che devono fare una ecografia morfologica. Questa qui deve essere fatta a cavallo tra il quinto mese, seconda settimana e il sesto mese. Bene, la prenotazione non viene fatta con un programma che ti dà una scadenza certa ma viene data così a cavolo, fra un anno, sei mesi, otto mesi. Per non parlare dei problemi di viabilità all'interno del Policlinico che sono tutt'altro che risolti. Sono cronici. Io avevo padrongini corsi quando veniva a Policlinico e si parlava di chiusura. Siamo arrivati al 2015 e di chiusura non se ne parla proprio. Si parla, si fanno solo commenti, si fanno solo conferenze a stampa ma c'è un dato di fatto che qui tutti continuano ad entrare. E restiamo sulla sanità. Protesta questa mattina dei dipendenti del presidio di riabilitazione Padre Pio di Capurso che insieme alle organizzazioni sindacali hanno chiesto il pagamento di stipendi arretrati. E' da circa sei mesi che la società GMS che gestisce la struttura sanitaria per conto dell'ASL non corrisponde alle diverse mensilità ai propri lavoratori. Chiediamo all'ASL che ci paghi direttamente come strutture convenzionate e hanno fermato i lavoratori che continuano perché ogni volta questi soldi pubblici prendono vie traverse. E prima di chiudere con il nostro telegiornale, la prima parte della nostra informazione ci ricolleghiamo con Silvia Di Pinto e con l'orchestra dell'università. Silvia ci sei? Sì Cristina ci sono, lo dicevamo prima, sono tutti studenti, ricercatori e qualcuno anche docente da tutte le facoltà. Abbiamo informatica, abbiamo le facoltà umanistiche, le facoltà scientifici, fisica e adesso sono in compagnia di una giovanissima direttrice d'orchestra che è Dominga. Tu che cosa studi? Io studio lingue, quindi studio al Dipartimento Lelia. Mi sono accostata a questo progetto per il piacere di condividere la mia passione per la musica con tutti i miei compagni universitari. Dominga, prima di farci sentire questo quartetto d'archi che tu dirigi, come si fa di flauti? Come si fa a conciliare lo studio dell'università e poi invece il lavoro? Perché questo è un po' in qualche modo un inizio di professione per te. Diciamo che rispondere a questa domanda è piuttosto complicato, anche se non esiste una vera e propria ricetta per districarsi nelle faccene quotidiane tra gli studi universitari e quelli musicali. Ci vuole tanto lavoro, tanta dedizione, tanta fatica e tanto impegno, ma le soddisfazioni dopo un po' arrivano. E allora, a proposito di soddisfazioni, sentiamo un po' di questa bella musica che ci suonano. A proposito di soddisfazioni, sentiamo un po' di questa bella musica che ci suonano. Ebbene, sulle note dell'orchestra dell'Università di Bari chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale, qualche minuto di pubblicità e poi subito con noi. Grazie.